Direttore Pasquale Flacco, anestetisti all'ospedale di Vasto, com'è la situazione? Abbiamo attualmente una graduatoria, abbiamo espletato il concorso, abbiamo una graduatoria, stiamo facendo delle assegnazioni, delle nuove assegnazioni, fermo restando che speriamo di trovare persone che sono disponibili a venire a Vasto. Tutto qui. Per quanto riguarda invece la TAC in radiologia e i tecnici radiologi? Per quanto concerne la TAC, la TAC è stata acquistata regolarmente, una TAC a 64 strati della GE. Stiamo predisponendo il nuovo layout che la dottoressa Amato ci ha chiesto. Proprio lunedì è venuto l'ingegner Manci con l'ingegnere che è incaricato di redigere il nuovo layout. Appena ci rimettono questo progetto lo approviamo e andiamo avanti con i lavori. Per quanto riguarda i radiologi? Per quanto concerne i radiologi abbiamo un concorso in atto, la dottoressa Amato è il presidente del concorso. Non appena i tempi tecnici lo permettono si espletterà il concorso, avremo una graduatoria a disposizione e prenderemo tutti i radiologi di cui l'ospedale di Vasto ha bisogno. Nell'ultimo periodo diverse visite sono state effettuate dal consigliere regionale Pietro Smarciassi all'ospedale di Vasto e anche in altri ospedali. Ha evidenziato delle situazioni critiche, lei cosa risponde? Quelle situazioni che ha evidenziato il consigliere noi le abbiamo prese in considerazione, ci stiamo lavorando. È un suo diritto, dovere fare questi sopralluoghi. Siamo stati noi dell'azienda a chiedere un suo incontro, un incontro con lui. Abbiamo preso in considerazione tutti i rilievi dal consigliere effettuate e prenderemo i dovuti provvedimenti.